La Giunta di Verbagna ha approvato nel corso dell'ultima riunione il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del versante franato lo scorso 9 novembre sulla statale 34 a Fondo Toce. Il punto è stato proposto dall'assessore Nicolò Scalfi. Dopo l'esecuzione degli interventi di sommorgenza, l'amministrazione ha verificato la necessità di studiare l'intero versante e procedere con la sostituzione delle barriere paramassi, ormai datate e non più certificabili. Il progetto è stato eseguito dallo studio Bertinotti di Mergozzo con la consulenza geologica dello studio Capulli. Prevede la sostituzione dell'esistente barriera paramassi con una nuova più efficace certificata, il rivestimento delle pareti di roccia con reti, la manutenzione delle reti esistenti e altri elementi, compresa la pulizia del verde. L'importo totale è di 770 mila euro, ma si procederà con un primo lotto da 231 mila euro. Il primo lotto avrà come oggetto gli interventi più urgenti. Ora l'amministrazione procederà con il bando e poi con il via al cantiere. E sempre nell'ultima giunta è stato approvato anche un intervento da 20 mila euro, grazie ai fondi arrivati dal governo, che saranno utilizzati per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel quartiere Sant'Anna, per realizzare uno scivolo per disabili in via Trubescoi, all'angolo con via Tonoli a Pallanza, per consentire l'accesso alla passeggiata a lago ad oggi mancante, e in piazza Don Minzonia Intra per consentire l'accesso alla parte sopra elevata della piazza dove sono ubicati i servizi igienici pubblici.